Prevenire è meglio che curare. Ne ha convinto Giovanni Cavallini, sindaco di Nibiano, che ha convinto la regione a finanziare interventi nelle frazioni di Tassara e Verago per riuscire a prevenire il dissesto idrogeologico. Verranno stanziati così un milione di euro per creare canali di scolo e non solo, per evitare frane e smottamenti durante le piogge autunnali. Gli interventi che sono stati pianificati a livello regionale vengono sviluppati in anticipo rispetto a eventuali eventi funesti, cioè voglio che si spendano i soldi prima su questo territorio per aumentare il livello di sicurezza e noi abbiamo già indicato due o tre priorità. Sono legate a interventi da effettuare su quello che sono la frana di Tassara, l'area di Tassara e piuttosto che l'area legata a Verago. Sono due o tre interventi dove io voglio intervenire prima. È partito intanto come progetto sperimentale del Comune della Protezione Civile l'uso di WhatsApp per allertare i cittadini di eventuali danni causati dal maltempo, come ad esempio allagamenti frane di sesti. Abbiamo attivato come Comune di Nibiano, a livello sperimentale, ma poi lo diffonderemo a livello di Unione della Valtidone, una messaggistica su WhatsApp che consentirà ai cittadini di ricevere messaggi di allerta piuttosto che avvisi da parte del Comune. È un servizio che sta funzionando a costo zero per i cittadini e praticamente anche per il Comune ma che consente anche qui di aumentare il livello di sicurezza.